Dovete vivere in grazia di Dio. 30 maggio 1975. Figli di Letti, sono con voi per porgervi il mio saluto affettuoso, pieno di tenerezza. Sono la madre vostra ed ogni vostra preoccupazione è pure mia, i vostri interessi mi stanno a cuore come le cose più care. Ma di quali interessi intendo io parlare? Quelli che veramente vi riguardano? È vostro interesse vivere cristianamente bene? È vostro interesse giungere alla Patria Celeste? Questo, io pure desidero. Ecco perché, ricordandovi alcune parole del mio Gesù, vi do come un programma per vivere bene. Io sono la vite e voi i tralci, ha detto Gesù. Chi sta unito a me, questi produce abbondanti frutti. Ecco, figli, se volete che la vostra vita sia esemplare e se volete essere vere testimonianze del mio Gesù, dovete vivere in grazia di Dio. Che vale il compiere molte azioni, quando da Dio non possono essere ricompensate, perché compiute in stato di peccato? È tempo perduto. Anche se umanamente poteste riempire i vostri granai, e distruggere poi quelli vecchi per edificarne dei nuovi, a nulla varrebbero le vostre opere. Mentre ogni azione anche indifferente, compiuta con Dio e per Dio, è un'azione che assume un valore infinito e che avrà una ricompensa eterna. Quanto mi addolorano quei cristiani, anche consacrati, che non danno alle cose spirituali quel valore che meritano. Se voi portate ad un fratello un pane, fate una buona azione, ma, come egli avrà mangiato quel pane, avrà ancora fame e voi gli avrete dato ben poco. Se invece, con l'aiuto materiale, voi gli portate la fede e gli fate comprendere la grandezza della grazia, che è Dio stesso che abita nell'uomo, Allora sì che l'aiutate e gli date qualche cosa che gli sarà sempre di sostegno e di forza. Ecco perciò che, mentre vi raccomando di essere costantemente uniti al mio Gesù con la preghiera e di fuggire il peccato, vi prego di aiutare pure i fratelli a combattere la loro battaglia contro il mondo, il demonio e le tentazioni. Voi siete destinati al Paradiso. Ciascuno di voi ha già il suo posto assegnato nel cielo. Voi dovete arrivarvi, e la mia opera materna è tutta intesa a farvi raggiungere la meta. Figli, il materialismo vi dirà che è meglio procurarsi il benessere su questa terra, perché dopo la morte non esiste più nulla. Ma io vi confermo che vengo dal cielo e che là, dovete giungere anche voi. È un periodo di prova quello che state percorrendo. È come la traversata del deserto per arrivare alla celeste Gerusalemme. Non perdete mai di mira le verità della fede e sappiate che nella speranza del Paradiso, milioni di martiri hanno sacrificato la loro vita e non sono rimasti delusi. Se voi poteste vedere la loro gloria, rimarreste sbalorditi. Ebbene, sappiate diffondere questa speranza e dire a tutti che, anche se la vita riserva delle incognite o delle sorprese amare, vale la pena sopportare tutto per amore di Dio per guadagnare una tale gloria. Figli, il periodo estivo ci separerà e non riceverete dal mio strumento la mia parola, ma chi vi separerà dal mio cuore? Nessuna cosa. Nelle vicende tristi sarò con voi, nella gioia sarò con voi. Invocatemi e fatemi conoscere. Sarò con voi e vi parlerò con le mie buone ispirazioni. Il mese di giugno è dedicato al cuore del mio Gesù. Onoratelo, perché Egli è figlio di Dio, e come nel Suo nome fu creato il cielo e la terra, così dal Suo sangue il mondo fu redento. Egli è il centro della storia e il mondo si regge sulla Sua potenza e l'autorità. Egli ha fondato la Chiesa, in cui ha deposto le sue ricchezze spirituali. Egli disse un giorno, il mio regno non è di questo mondo. Il suo regno riguarda le anime, e chi vuol santificarsi deve affidarsi a Lui e servirsi della Chiesa. Chi vuol collaborare per la diffusione del suo regno, non deve dimenticare le anime per pensare ai corpi e non deve tradire l'opera della Chiesa. Siate fedeli a Lui, fedeli alla Chiesa. Vi benedico, figli, stringendovi al cuore. Vi aiuto in tutto. Siate fedeli ai vostri impegni sociali e compiteli con coscienza per salvare la vostra libertà, la famiglia e la verità. Arrivederci dopo le vacanze e sempre ricchi di grazia e di amore di Dio. Grazie. 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 Grazie.